Giulia Stabile sta per essere sostituita da Albe? Tutti i dettagli sulla nuova edizione di Tu si che vale s 2022. La nuova edizione di Tu si che vale s 2022 ha in serbo moltissime novità per i fan del programma, tra queste pare esserci anche l'ingresso nel cast di Albe, il cantante di Amici 2022, che dovrebbe prendere il posto della ballerina Giulia Stabile Leggi anche, Amici 2022 Albe, tutto sul cantante, età, ex fidanzata, Serena, San Giovanni, di dove è, Instagram Tu si che vale s 2022, quando inizia? Prima di scoprire tutte le novità della nuova edizione, scopriamo quando inizia Tu si che vale s nel 2022? La programmazione dovrebbe essere fissata per l'autunno, più precisamente nel mese di settembre in prima serata su Canale 5 Non è ancora disponibile una data precisa Albe di Amici conduttore di Tu si che vale s 2022? Le ultime indiscrezioni lanciate dall'esperto di gossip Anideo Venza rivelano una new entry nel cast di Tu si che vale s 2022, stiamo parlando del cantante di Amici 21 Albe Il giovane ex allievo del talent sarebbe stato scelto come nuovo volto per la co-conduzione del programma di Canale 5 Giulia Stabile perché non ci sarà più? Albe, dunque, dovrebbe prendere il posto di Giulia Stabile D'altronde non è la prima volta che si vocifera della possibile esclusione della ballerina dal programma Il primo ad averlo anticipato era stato Davide Maggio, scatenando una forte reazione sui social per la possibile assenza della ex vincitrice di Amici Ma perché Giulia potrebbe essere eslusa? A quanto pare nessun rancore con il team del programma, semplicemente le registrazioni non sarebbero compatibili con gli impegni professionali della ragazza E voi come vedreste Albe di Amici 21 come conduttore a Tussiche Vales 2022 al posto di Giulia Stabile? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito